Stamattina veramente sono felice che sia stata votata ad unanimità, è stata discussa nella commissione che presiedo e anche lì ha trovato riscontro positivo. Di certo è un osservatorio che si pone ancora più vicino a quelle che sono le esigenze della nostra pagania, della nostra società. Si pone anche in maniera di collaborazione sia con l'amministrazione, con le forze dell'ordine e con i cittadini stessi nel momento in cui dovessero avere delle problematiche laddove hanno bisogno di interloquire sia con l'amministrazione che possa fare poi da ponte con le forze dell'ordine per essere un po' più tutelati, per essere un po' più vicini ai nostri cittadini. In maniera di colloquiare, di aprire un colloquio con i cittadini laddove si dovessero trovare in difficoltà.